E ora parliamo di motori, è venuto a trovarci in studio Alessandro Canevarolo, amministratore unico del Cremona Circuit di San Martino del Lago. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera. Allora, di strada ne avete fatta dal 2015, giusto? Che sei amministratore unico del Cremona Circuit. Di campioni ne sono passati, di recente solo l'ultimo è stato Sainz della Ferrari. Sì, l'ultimo in ordine di tempo è stato Sainz perché ha presentato il telaio nuovo della sua nuova scuderia, mettiamola così. Ci sarà un telaio brandizzato Carlo Sainz 55, è pensato di presentarlo da noi a Cremona Circuit in occasione del VSK, che è una gara molto importante che abbiamo appena ospitato con circa 350 piloti. Ma ne avete ospitati tanti altri di campioni, ricordacene qualcuno. Beh, domenica c'era anche Ackinen con le figlie, i figli perché c'ha due o tre figli che corrono, Montoya, lo stesso figlio di Schumacher, Patrese, dopo ne sono venuti tanti. E di recente vi siete aggiudicati la Superbike per i prossimi cinque anni. Spiegaci un po' questo sogno, come si è avverato, perché così l'hai definito prima fuori onda, giusto? Era un tuo sogno? Sì, era un progetto che doveva vedere la luce nel 2027, tra cinque anni, più o meno. Dopo c'è stata un'accelerazione di tempi che è stata dovuta a una concomitanza di scadenze di contratti degli altri autodromi, e c'è stata richiesta la possibilità di ospitarlo subito quest'anno e abbiamo colto la parabalza. Questo implica notevoli sforzi economici e anche tutto quello che consegue, perché è un campionato del mondo. Non è, per carità, anche il campionato italiano di velocità è importante, ma il campionato del mondo è il campionato del mondo. E adesso dovete fare dei lavori di adeguamento, che cosa dovete mettere in mano per adeguare agli standard della Superbike? Allora, principalmente dobbiamo predisporre l'autodromo ad ospitare le persone che acquisteranno il biglietto per venire a vedere l'evento. Perché Cremona Circuit era nata non con l'idea di portare questo tipo di evento. Quindi cercare di ospitare, anzi predisporre l'autodromo, per ospitare circa 50.000 persone nei tre giorni, non è proprio così semplice. Abbiamo il tempo che ogni giorno che passa un giorno in meno, che è alla data dell'evento, e quella è la cosa più complicata. Dopodiché ci sono due modifiche al circuito, che sono le ultime tre curve, perché per il tipo di moto che è la Superbike, erano un po' troppo strette, erano un po' troppo lente. Quindi abbiamo riprogettato le ultime tre curve per rendere molto più veloci, per soddisfare le richieste della Federazione Internazionale Motociclistica. Prevendite che stanno andando fortissimo, mi dicevi, e ricordaci un attimo le date. Prima ci saranno dei test, giusto, a maggio? Sì, a maggio, il 23-24 maggio, ci saranno i test della Superbike, quindi tutte le case coinvolte nel Mondiale Superbike ci saranno. La settimana prima ci sarà la prima uscita del Mondiale Femminile, quindi ci sono 28 donne che per la prima volta parteciperanno al campionato mondiale femminile, che non era mai stato organizzato dalla Federazione Internazionale Motociclistica, e dopodiché si andrà al 20-22 di settembre, quando ci sarà il Mondiale Superbike. Allora, in bocca al lupo Alessandro Canevarolo e al Cremona Circuit per il Mondiale di Superbike. Crepe il lupo, grazie mille. Grazie mille.